Benvenuti e benvenuti a tutti nella sede dell'Agenzia Dire qui a Roma, grazie a Memorial Italia, Andrea Bullotta, Giulia De Florio, Raffaella Karpinski, collega giornalista e attivista come si definisce. Oggi siamo qui per parlare di un caso singolo, di un prigioniero politico, Dimitriev, vedremo un documentario che io mi sono preso la libertà di ridurre all'essenziale, mi presento, sono Nico Perrone, direttore dell'Agenzia Dire, da sempre come agenzia noi siamo attenti ai diritti umani, oggi ci occupiamo dei prigionieri politici che sono in Russia, ma ci siamo occupati in passato del nostro connazionale Regeni assassinato dai poliziotti del dittatore egiziano, di Zaki per fortuna finita bene, di quanto è successo alle donne e agli uomini in Afghanistan durante periodi ebui in quel paese, in Iran, quanto sta succedendo in Iran, quanto sta accadendo la guerra tra Israele e i palestinesi in quella guerra che ormai si è trasformata in una guerra al mondo, perché è tutto il mondo che si sta schierando, però non si trova ancora la parola fine. Quindi siamo un'agenzia attenta alla salvaguardia dei diritti umani, pensiamo che sia importante in tutti questi casi comunque confrontarsi, parlarne, mettere a disposizione della coscienza critica a cui bisogna sempre aspirare e avere come punto di riferimento tutti i dati possibili perché si possa arrivare non soltanto tra le tante verità che poi ci troviamo di fronte ad ogni singolo caso, comunque alla verità e alla giustizia poi nei casi in cui giustizia deve essere fatta. Siamo in una fase molto difficile, non soltanto perché dobbiamo parlare dei prigionieri politici nella Russia ma in un momento in cui la Russia è impegnata in una guerra in Ucraina e questo complica ancora un po' più le cose perché nel momento in cui bisognerebbe avere la massima attenzione sul singolo caso invece poi si viene trascinati comunque o stai di qua o stai di là, quello è più colpevole del colpevole e quindi si cercano altri motivi e altre ragioni. Lo scambio che abbiamo visto dei detenuti politici di questo agosto è una cosa buona, bisogna favorire il più possibile però non ci deve far appunto dimenticare che a seconda delle diverse stime noi abbiamo tra gli 800 e gli 1200 detenuti politici, donne e uomini, nelle galere sono molte volte persone che vivono in situazioni inumane, cioè sottoposte anche a violenza, molte volte non ne abbiamo notizia, c'è gente che muore nel silenzio più totale perché non si conoscono le loro situazioni e le loro condizioni. Quindi noi oggi proiettiamo questo documentario su un caso singolo, c'è una parte legata al momento dell'arresto di Dimitriev che non vi nascondo mi ha molto colpito perché l'accusa di avere delle foto pornografiche colpisce, sono sicuro perché io mi fido di Memorial che nel momento in cui diventa un caso che va tutelato e va salvaguardato ci sia stata una spiegazione che poi ho visto anche in un tribunale, cioè periti indipendenti nominati dal tribunale hanno detto che quella roba lì non esiste, che non è assolutamente argomento che potesse prevedere una condanna, quindi questa cosa mi ha tranquillizzato, però tutto questo ci fa pensare come noi siamo comunque dentro un tempo, io sono anziano, sono vecchio, ne ho viste, si chiama guerra psicologica, oggi gli esperti l'hanno trasformata in guerra cognitiva, la chiamano così, comunque siamo inseriti di qua e di là in una guerra che non si vede, non ci sono morti e feriti perché puntano appunto a condizionare il pensiero, a farti passare quella che è una verità che fa comodo a questo o a quello a seconda delle situazioni. Ecco perché diventa come dire importante il lavoro che fate voi, io vi ringrazierò, vi ringrazierò sempre, portiamo dati, portiamo fatti, portiamo situazioni concrete, reali, fatti di vita, persone normali che parlano e raccontano le loro situazioni perché solo questo secondo me alla fine può aprire un varco in menti e nelle coscienze di persone che sono troppo condizionate da, e qui io ci vedo per quanto riguarda il nostro caso, in questo caso in Russia, il fatto di voler condizionare i propri cittadini, i cittadini russi che erano stati per decenni e decenni sotto il regime sovietico e quindi in una gabbia molto ristretta e anche in condizioni diciamo anche di povertà e di beni, cioè nell'allargamento di questa gabbia, nella possibilità per i cittadini di acquistare beni, di avere delle proprie cose, delle proprie possibilità di poter viaggiare, quindi di poter avere una propria ricchezza personale, ma comunque la gabbia c'è sempre, la gabbia è lì e il messaggio che a mio avviso lì è passato è che attenzione potete perdere questo che avete adesso nel giro di poche ore se non vi comportate come il potente ordina, quindi io capisco che è una battaglia difficile perché in questo condizionamento ci siamo anche noi che siamo da questa parte, per quanto riguarda l'Italia per fortuna non abbiamo detenuti politici, abbiamo situazioni in cui diciamo alcune attività politiche sono sfociate in violenza e quindi diciamo il reato è diventato un reato legato a quel fatto e comunque non è che come succede in Russia entri condannato a due anni e tre anni e non esce più perché man mano che ti avvicini all'uscita alla fine pena ti appioppano altri reati e quindi abbiamo visto con Navalny c'è alla fine c'è l'arresto cardiaco, anche questo dell'arresto cardiaco è un altro dato che ho trovato interessante perché proprio i dati del sistema penitenziario russo certificano che nelle carceri, nella totalità che riguardano tutti i detenuti russi, oltre 650.000 detenuti, comunque ogni anno tra le 2.000 e le 2.400 persone detenute muoiono per arresto cardiaco, questo tradotto significa che sono episodi di violenza che continuano, che vengono per ruota e che ti portano poi a morire in carcere. Quindi io partirei adesso con questo documentario, noi ci spostiamo un attimo di qui, poi interverranno Raffaella De Florio, Andrea Gullotta e Raffaella Garpinski e poi vediamo un attimo come proseguire. Grazie a tutti. Spero di aver sintetizzato al massimo, però questo è un po' il quadro che esce fuori, lo ripeto, parliamo di un caso singolo ma ci serve anche ricordare che ci stanno a cuore, ci interessano anche gli oltre 1.200 detenuti al momento, prigionieri e prigioniere politiche nella Russia. Ecco, Raffaella e Giulia De Florio, come Presidente di Memoriale, che cosa si può fare? Perché questo è un po' l'interrogativo, noi giornalisti raccontiamo, parliamo, intervistiamo, no? Ecco, però, ecco, che cosa si può fare? Perché molte volte a me viene il dubbio che poi magari portando così alla luce cedera ci sia dall'altra parte diciamo un accanizio ulteriore, cioè molte volte mi interrogo, noi parliamo eh, ma non è che poi accendiamo ancora di più i riflettori, no? E facciamo aumentare la pena e facciamo aumentare le sofferenze di queste persone. Ecco, che cosa si può fare? Giulia. Grazie mille, buonasera a tutti e tutte, grazie davvero Nicola e all'Agenzia Dire per questo invito, per questa preziosa proiezione e grazie ovviamente a Raffaella per aver coorganizzato con noi questo incontro. Bella domanda, una domanda molto da Memoriale. Cosa si può fare? Perché l'associazione russa e anche le sue, che chiamiamole così, filiali europee, internazionali hanno proprio un obiettivo sempre concreto, si documenta, si registra, si monitora e si fa, si cerca sempre di fare qualcosa, perché non bastano le statistiche, non bastano gli studi che sono alla base del nostro lavoro, ma bisogna poi concretamente muoversi e fare attivismo dal basso. E la domanda che poni se può essere peggiore per le persone detenute in Russia in questo momento, non solo russe, ricordiamolo, nelle prigioni, nelle carceri russe oggi sono detenute moltissime persone ucraine, per esempio, che vivono nelle condizioni peggiori, perché ovviamente potete immaginare quali sono i trattamenti riservati a persone di origine ucraina in questo momento nella federazione russa. Quindi è anche un quadro dal punto di vista della nazione variegato. Se può essere pericoloso per loro essere così sovraesposti mediaticamente? No, è il contrario. L'esposizione mediatica, l'essere visibili è la loro unica salvezza. Salvezza vuol dire che finché c'è un occhio dell'opinione pubblica e soprattutto dell'Occidente è più probabile che le persecuzioni non arrivino ai livelli a cui possono arrivare e i livelli a cui possono arrivare l'abbiamo scoperto a febbraio di quest'anno con la morte di Alexia Navalny e non solo la sua, perché purtroppo è l'ultimo di una lunga lista. Quindi parlare, diffondere informazioni, divulgare quello che succede adesso in Russia è davvero un gesto concreto, non è soltanto una chiacchiera o un modo di riempire le pagine dei giornali, è davvero un modo per proteggere, in qualche modo per dare un salvacondotto a queste persone. Parlare di loro e parlare con loro. Ecco le altre grandi iniziative che in questi ultimi due anni e mezzo ovviamente si sono centuplicate perché è aumentato tantissimo il numero di prigionieri e prigioniere politiche è la possibilità di avere corrispondenze con queste persone. Noi facciamo fatica e direi per fortuna a capire come può vivere una persona in detenzione con quei capi d'accusa che non sono ovviamente politici, non esiste la dicitura, l'articolo di legge contro la, non so, espressioni contro la politica. Sono ovviamente l'etichetta di prigioniere politico viene data dalle ONG che si occupano dei diritti umani ma i casi come quello di Dimitrieff è uno dei più eclatanti ma gli articoli di legge per cui si finisce a subire condanne di questo tipo sono i più vari, atti di terrorismo, falsificazione di notizie e informazione sull'esercito, c'è tutta una lista proprio di capi d'accusa di articoli di legge che vengono utilizzati per esprimere le condanne contro queste persone e quindi la possibilità di comunicare con questi detenuti e detenute diventa per loro l'unico momento in cui ancora sanno di avere una vita al di fuori delle quattro mura e delle sbarre in cui sono condannate. Le prigioni russe sono molto diverse una con l'altra e anche questo è un dato che spesso non viene sottolineato e anche le condizioni in cui vivono possono variare di molto ma il denominatore comune è appunto la disumanizzazione, questo lo vediamo anche nelle nostre carceri e non è una novità solo o una tendenza solo russa però ovviamente sui prigionieri politici c'è un'attenzione maggiore e la possibilità per loro di avere un contatto con persone assolutamente sconosciute addirittura da fuori della Russia quindi ancora dall'Italia e dalla Francia diventa un motivo di... è un modo per sopravvivere chiunque sia uscito da un'esperienza di detenzione, non sono tanti ma per fortuna ci sono, racconta che se non avessero ricevuto le lettere, se non avessero ricevuto le cartoline, se non avessero potuto comunicare con altre persone non ne sarebbero usciti vivi o non ne sarebbero usciti così come ne sono usciti ed è un supporto importante e l'ultima cosa e poi chiudo, non riguarda direttamente la persona incarcerata ma le famiglie, questo è un altro dato che spesso si sottovaluta quando arriva la macchina repressiva contro una persona in Russia si distrugge una cerchia, si distrugge non solo una vita ma la vita di tutti coloro che hanno legami e relazioni con quella persona, quindi familiari più stretti, mariti, moglie, figli, genitori, ecco il supporto a queste persone tramite avvocati, tramite assistenza legale, medica, giuridica, logistica, noi non ci possiamo immaginare cosa vuol dire quando Katzia parlava dei pacchi da portare a suo padre, noi non ci possiamo immaginare le regole che ci sono di quello che si può mettere in un pacco, di quanto può pesare, di quanto si può mandare, di quando ti rifiutano l'invio e devi rifare tutta l'altra fila, sono torture continue, non solo per il prigioniero che non si vede arrivare niente ma per la famiglia che non riesce nemmeno ad avere quel piccolo legame ancora con la persona cara, quindi anche l'assistenza a tutta la cerchia di relazioni che il sistema distrugge in un secondo è fondamentale per provare ad andare oltre a quell'inferno, provare a superarlo e si spera nel migliore dei modi con la liberazione poi del prigioniero e della prigioniera. Grazie Giulia, Andrea Cullotta, vicepresidente di Memorial Italia, ecco a te invece questa domanda, abbiamo visto, abbiamo fatto cenno prima a quella che un tempo era la guerra psicologica, adesso guerra cognitiva, abbiamo visto verso la fine del documentario, nel momento in cui si afferma che lì quelle sono le tombe dei prigionieri politici fucilati durante il terrore staliniano, si trova la controinformazione che lì c'è stata una guerra contro la Finlandia e quindi quelli che sono stati lì sono i soldati morti durante questa guerra, quindi la controverità che viene trovata. Ecco io ti volevo dire, come si fa? Tu hai eseguito tutto il processo, hai conosciuto di persona, Dimitriev, quindi questa per me è un'ulteriore garanzia, diciamo che ci stiamo battendo veramente per una causa giusta, come si fa a convincere, a far crescere una coscienza critica nei cittadini russi? Perché senza una coscienza critica che si allarga è chiaro che il potere sarà sempre, come dire, terribile, senza limiti, senza nessuno che può fermare, diciamo, quando tu decidi dall'alto che quella persona è la sua cerchia di familiari, di amici eccetera, deve essere distrutta perché è anti-Stato, è anti-potere. Beh intanto buonasera e grazie ancora dell'invito, ringrazio anche, mi accodo Giulia al ringraziamento all'Agenzia Dire e a Raffaella, Karpinski-Chiodo, per questo momento perché il caso di Dimitriev è un caso veramente particolare, veramente unico sotto tanti punti di vista, io ho lavorato con lui, ho lavorato nel suo archivio, sono stato nella stessa casa che avete visto e ciò non toglie che chiaramente quando ho visto quel tipo di accusa mi si sia gelato il sangue nelle vene e credo che questo sia successo a tutte le persone che conoscevano Dimitriev, ma qui entra in gioco esattamente quello che hai detto tu, cioè il fatto che questo caso poi è diventato chiaro, l'abbiamo seguito giorno dopo giorno, si è visto nel filmato Annetoli Razumov, un suo amico e collaboratore di tanti anni, l'avvocato Viktor Anufriyev, sono persone che ne abbiamo sentito quotidianamente e ci dicevano quello che non si poteva dire fuori e fondamentalmente i risultati poi dei processi hanno mostrato che quello che dicevano era vero, perché di fatto l'accusa di creare materiale pedopornografico è stata per ben due volte completamente smontata e ci sono state tutta una serie di aspetti all'interno della vicenda giudiziaria in particolare che hanno dimostrato che fosse chiaramente un caso politico, una montatura, banalmente insomma per due volte è stato assolto di fatto, la prima quasi del tutto, la seconda è stata una soluzione simbolica e per due volte è stato cancellato del tutto, il processo è stato fatto ripartire finché finalmente non si è arrivati a quello che il potere voleva, cioè 15 anni. Tutto quanto questo processo intanto è stato purtroppo foriero di quello che sarebbe successo con la guerra, cioè di un clima politico, un clima di violenza civile e non solo nei confronti degli attivisti, di cui Mitri è stato di fatto un po' disgraziatamente il capostipide, ma anche è servito a capire, e poi mi ricollego a quello che si diceva prima del supporto, che le campagne, che parlare di questi casi è un qualcosa di fondamentale ed è fondamentale all'esterno perché ne abbiamo fatto tantissime raccolte firme, di questo caso se ne è parlato ampiamente e questo ha fatto sì che poi regolarmente al momento della sentenza le sentenze fossero sempre clementi, poi dopo un po' di mesi quando c'era il silenzio si cancellava e si ripartiva, però intanto c'era un dato concreto. Detto questo ha avuto una grande importanza all'interno della Russia, si è formato un grosso movimento di opinioni intorno a Dimitra che è stato riconosciuto da tutti come una persona innocente, non avremo il tempo di andare nei dettagli, però questo è servito a far capire che c'era un clima repressivo che stava iniziando ancora più repressivo, ancora più forte e questo ha fatto sì che poi quando è cominciata la guerra, quando poi sono cominciate le repressioni su più ampia scala, quelle che abbiamo visto e che continuiamo a vedere, ci fosse già una coscienza comune. Per rispondere alla tua domanda, come si fa a sviluppare una coscienza civile? Io forse sono un po' troppo ottimista, ma io non credo che non ci sia una coscienza civile in Russia, io credo che sia il contrario. Io credo che ci siano tantissime persone che in questo momento non possono parlare, per il semplice motivo che parlare in Russia in questo momento significa di fatto andare incontro alla repressione, quasi certamente, adesso è diventato reato, c'è gente che è finita in colonna penale per aver posato i fiori su un monumento all'Ucraina, nei giorni dei bombardamenti all'Ucraina, addirittura posare fiori anche ai monumenti delle vittime è diventato un reato, però la gente l'ha fatto, c'è la gente che continua ad andare in piazza, c'è stata, adesso ce n'è di meno perché ormai è diventato un clima assolutamente, insomma completamente repressivo, detto questo però ci sono migliaia di persone che lo hanno fatto e se ci sono migliaia di persone che l'hanno fatto sappiamo anche che ci sono migliaia di persone che magari non l'hanno fatto ma lo hanno pensato e non l'hanno fatto perché non sono il padre malato, i figli piccoli, insomma qualche motivo perché se non ce la sono sentita, c'è un'enorme migrazione di russi, so che qui penso ci siano rappresentanti della comunità dei russi liberi che hanno formato una grossa rete, io non credo che ci sia in questo momento una situazione di totale asservimento dell'opinione pubblica a quello che dice la stampa e quello che dice il potere, d'altronde la storia di Sondarmò che è abbastanza indicativa, quegli scavi che abbiamo visto alla fine non hanno portato a nulla, hanno tirato fuori dalle fosse i cadaveri che erano lì sepolti da 80 anni, più anzi di più e non hanno portato a nulla, questo però non ha fatto sì che sia cambiata l'opinione pubblica su questo, sono state fatte una serie di azioni che hanno proseguito la storia da parte del potere, ma le commemorazioni a Sondarmò che si sono sempre tenute il 5 agosto si continuano a tenere e la gente continua ad andarci, quindi io non credo che ci sia, credo che bisogna vedere anche un po' la situazione un po' nel suo contesto e che questo ci possa dare qualche speranza, certo se mai ci dovesse essere un'apertura dobbiamo vedere cosa succederà e se ci saranno delle figure capaci di aiutare la società civile russa ad avere una voce e soprattutto a radicarsi perché il problema grosso credo, beh non il problema grosso, uno dei tanti problemi della Russia postsovietica è stato che le voci c'erano ma non si sono radicate, non hanno avuto un modo di creare un percorso duraturo per una serie di contingenze chiaramente, ecco forse quella sarà il momento chiave. Grazie Andrea, Raffaella, collega giornalista, un po' come si è presentata anche attivista, ecco io vorrei un po' spuzzicarti, cioè attivista di questi tempi dove ormai o si sta di qua o si sta di là è sempre più difficile anche come dire ragionare con chi fino a poco tempo fa lo si riteneva dalla propria parte, cioè che cosa sta succedendo dal tuo punto di vista nella nostra società e a livello anche tu viaggi e viaggi anche in altri paesi, che cosa sta succedendo insomma nel popolo che fino a qualche tempo fa si ritrovava sotto le stesse bandiere e non aveva dubbi a rivendicare pace e giustizia e un mondo migliore e non sotto il potere di questo o quella dittatore. Una domandona questa, è quella che mi tormenta non solo dal 24 febbraio del 2022 perché poi il problema è che noi abbiamo appunto una storia lunghissima e bellissima del movimento pacifista italiano che è sempre stato capace di guardare ben oltre gli schieramenti e i blocchi anzi diciamo che mirava a pensare a un mondo si diceva una volta libero dai missili dal Portogallo agli Urali non si è mai, si chiedeva di non installare i missili Cruis a Comiso ma al tempo stesso si chiedeva di smantellare i missili SS-20 in Germania e negli altri paesi dell'est che appunto li ospitavano. forse diciamo c'è questo è un punto molto debole in questo momento no perché si tende a essere non lo so se anche un figlio nel nostro tempo l'informazione internet no questa cosa che da una parte in Russia favorisce il fatto che ci sia una circolazione finché sarà possibile di informazioni di notizie e dall'altra parte qui c'è questa cosa che ho visto su internet che vuol dire dove l'hai visto dove l'hai letto e c'è questa cristallizzazione di posizioni per cui si crede alle verità articolate per cui c'è la propaganda di Putin ma c'è anche la propaganda dell'Occidente no c'è questa idea così molto monolitica e si perde un po' la capacità di discernere anche perché ci si deve comunque affidare alla fine a un qualche filtro diciamo di cui ti fidi no per poter leggere la realtà ma io ecco penso che sia un po' persa la capacità di avere una visuale un po' più coraggiosa più capace di guardare non il bianco e il nero ma tutti i grigi che ci sono in mezzo a proposito di questo io nel mio piccolo assolutamente nel mio piccolo perché non sono nessuno sono solo una persona che vuole vedere come diceva prima Andrea io ci credo tantissimo nel fatto e non solo perché ci credo perché sono una Don Quixote che si è presa la fissa e vuole credere a tutti i costi che in Russia nonostante Putin nonostante noi ci siano tante persone che la pensano in modo diverso io penso che ci sono tantissime perché ci sono perché ho un contatto continuo con tante persone perché leggo continuamente tutto quello che scrivono e che circolano e che e che mandano su youtube su qualunque altro canale che ancora funziona almeno fino adesso le persone che appunto la pensano in un modo diverso e che oggi non possono non è oggi in realtà ecco una cosa di cui stavamo parlando prima con Giulia questa storia della repressione non solo come dice il documentario come racconta il documentario su Dmitriev è qualcosa che c'era già ed era in corso ma non comincia il 24 febbraio del 22 comincia per quanto mi riguarda almeno 24 anni fa con Putin di sicuro diciamo è cominciato un percorso di proprio scientifico programmato adesso in questi giorni si parla della questione di come si sono programmate le infiltrazioni sui mezzi tecnologici per colpire Hezbollah ma qui c'è un programma scientifico strategico che è stato portato avanti in Russia da Putin non solo da lui ma dal suo diciamo dalla sua struttura che ha proprio pianificato tutta una serie di cose per cui non è che siamo arrivati il 24 febbraio così d'amblè all'invasione in Ucraina c'è stato io penso a amici e colleghi che sono stati uccisi penso sempre a Yuri Shekacikin che fra l'altro in questi giorni proprio anzi proprio stamattina mi è arrivata una bella notizia diciamo così c'è un premio che è stato dedicato a lui lui era un giornalista è stato un capostipide del giornalismo di inchiesta di denuncia sulla corruzione è stato quello che ha fatto ha raccontato tutto ciò che è stata l'invasione dell'Afghanistan sovietica quindi parliamo di tanto tempo fa lui è stato ucciso nel 2003 in Italia ma quanto se n'è parlato se n'è parlato quasi zero Anna Palitkovska è l'unica di cui forse si dice si conosce il nome ma nel 2006 sei colleghi della nuova gazeta sono stati uccisi non è che sono stati uccisi così perché qualcuno gli ha rubato la borsa sono persone che facevano il lavoro di scoperchiare la realtà e sono stati eliminati letteralmente uno dopo l'altro come loro tante altre persone di cui nemmeno si parla che sono volate dalla finestra che sono no che si sono guarda caso trovati impiccati avvelenati abbiamo una lista di persone che sappiamo non solo Navalny come sappiamo anche tante altre persone la Castiucenco che è una giovanissima giornalista della nuova gazeta che era peraltro inviata in Ucraina adesso è a Berlino anche lei è stata avvelenata è riuscita a salvarsi proprio per il rotto della cuffia perché è stato qualcuno ha fatto una soffiata alla redazione della nuova gazeta gli hanno detto immediatamente di andare via da dove era ma comunque tornando a noi al di là delle persone note diciamo tra virgolette giornalisti o politici ci sono una miriade una quantità infinita di giovani di donne di artisti di persone meno o meno conosciute cioè quando parliamo di adesso Alexandra Scacilienco per fortuna è stata liberata io proprio era un caso che mi aveva veramente ne ho scritto praticamente non solo nel libro ma in tutti gli articoli che ho pubblicato sempre sono riuscita anche a portare la mamma a fare una audizione alla Camera alla Comitato Diritti Umani della Commissione Esteri della Camera dei Deputati abbiamo fatto un sacco di iniziative ma non è un caso che poi alla fine è entrata in una lista che era di persone molto più note di lei però ci sono tanti casi come lei di persone assolutamente che semplicemente non potevano proprio concepire l'idea che uno andava a invadere l'Ucraina a fare un cioè a uccidersi fra cugini fra fratelli fra fidanzati perché poi io ricordo sempre un caso perché per me è stato uno dei più emblematici poi però voglio parlare di un caso non devo dimenticarmelo di un caso di questi giorni di questi due mesi di una signora ucraina di un villaggio vicino alla Bielorussa in realtà che ha raccontato la sua storia alla Caterina Gardeva che è una giornalista russa che fa dei servizi delle interviste bellissime che si possono trovare su youtube in russa naturalmente però insomma se uno si aiuta con la traduzione automatica può anche capire qualcosa e questa signora era una delle varie mamme madri dei soldati di cui ho parlato anche dall'inizio della guerra in poi raccontava la sua storia che è praticamente una donna ucraina appunto che si trasferisce in Russia come milioni di ucraini che storicamente si trasferiscono come immigrati a lavorare o insomma a suo tempo non immigrati ma persone che semplicemente si muovevano nell'ambito di questo grande mondo della Russia e si era trasferita vedova con tre figli ha lasciato i figli piccoli alla mamma che se ne occupava appunto in Ucraina lei si è trasferita dopo qualche anno si è sposata con un uomo russo il quale gli ha detto guarda qui la situazione era già al 2014 si mette un po' male forse è meglio che prendi la cittadinanza russa lei prende un mutuo per poter fare tutte le pratiche perché poi insomma è tutta una storia di burocrazia anche lì di corruzione che non ne parliamo e prende la cittadinanza per sé e per i suoi tre figli e li porta in Russia il più grande viene spedito al fronte dopo che aveva preso la cittadinanza russa viene spedito al fronte a combattere contro i suoi fratelli e cugini l'ultimo messaggio che lei ha ricevuto dal figlio è stato dal villaggio da dove provenivano quindi lui stava facendo la guerra stava facendo da soldato spedito a uno di quelli giovanissimi mandati al fronte di fatto come carne da macello ma la cosa più allucinante è che l'intervista finiva con lei che diceva io sto ancora pagando il mutuo per la cittadinanza che ho preso per mio figlio russa per mandarlo praticamente a morire perché poi non ha più avuto notizie di lui ma questi sono diciamo casi tantissimi casi che si possono per raccontare una complessità perché poi questa guerra bisogna capire che è veramente piena di relazioni di immaginario di empatie di cose che sono andate completamente in rovina e però ci sono appunto tantissime persone semplicissime non eroe gente che non voleva essere eroe semplicemente che non poteva proprio sostenere questa accettare questa idea questa logica e ha fatto un gesto c'è il ragazzo sicuramente che ha fatto anche il lancio della Molodov sul centro di raccolta di reclutamento ma c'è la ragazza questa ragazza di 18 anni che è stata arrestata quando ancora era minorenne 17 anni d'aria di San Pietroburgo che aveva fatto semplicemente delle scritte su un monumento assurdo veramente assurdo un monumento che ricorda l'amicizia con la città di Mariupol di San Pietroburgo cioè dopo averla rasa al suolo hanno fatto anche questa bella cosa in cui si racconta come è importante aiutare la città e la sua ricostruzione dopo averla distrutta questa ragazza ha fatto delle scritte fra l'altro naturalmente assolutamente innocue è stata arrestata, è stata minorenne, è stata condannata adesso è in carcere c'è questa storia di cui ha raccontato fra l'altro Karamurzak Vladimir Karamurzak è uno dei più noti se non il più noto politico russo che è stato liberato in occasione di questo famoso scambio di prigionieri questo storico scambio e lui stesso ha raccontato in diverse occasioni in questi giorni del fatto che è importantissimo scrivere ai prigionieri politici perché per lui diceva proprio non sapete cosa vuol dire quando si apriva quello spioncino della cella e ci veniva buttato un foglio che era un'email, una lettera che ci arrivava da qualcuno dal mondo quanto è stato per noi, per me, lui dice, importante riuscire cioè sapere che là fuori c'era qualcuno che ci pensava e questo mi ha dato la forza di resistere lo stesso scrive la Maria Pognonpanienco la giornalista che è stata arrestata ormai da due anni pure lei che ha scritto alla mamma di Alexandra Scocilenco per dirle per favore di a tutti là fuori scrivete ai prigionieri politici perché è una cosa che aiuta a resistere proprio a delle cose orribili, durissime anche solo semplicemente, tra virgolette, semplicemente all'isolamento in una cella e questa cosa però la sottolineano anche in questi giorni in modo particolare perché c'è una persona che non ha ricevuto nemmeno una lettera, nemmeno un messaggio, una visita, niente ed era questo giovane pianista, Pavel Kuchnir che è morto dopo uno sciopero della fame che ha cominciato a fare lui stesso perché era talmente disperato di lui proprio nessuno si è occupato non sapeva nessuno di lui io stessa mi sento ogni volta che ci penso proprio un senso profondo di angoscia perché sapere che appunto non ha avuto neanche quel gesto che potesse essere sufficiente per dirgli guarda il tuo gesto di dire semplicemente no alla guerra perché poi ha registrato un messaggio su youtube in un canale che aveva cinque iscritti potete immaginare quale orrore poteva provocare sullo stato, sulla federazione russa questo suo messaggio contro la guerra eppure per questo messaggio è stato arrestato, denunciato e messo in cella appunto e alla fine non ce l'ha fatta e questo è per dire che in realtà ci sono tante cose che si possono fare questa è una cosa piccola se volete ma è molto importante scrivere è possibile purtroppo serve che sia in russo quindi c'è tutta una rete però di tanti account, tanti gruppi anche qui a Roma c'è un gruppo tanto c'è lei che potrebbe fare anche da riferimento poi magari chi è interessato può rivolgersi a lei ma può rivolgersi a me, a Giulia, Andrea insomma adesso anche ti sfrutteremo per eventuali persone che vogliono contattarci si può scrivere ma anche mandare una cartolina banalmente che fra l'altro è una cosa che mi ha detto anche la Scocilenco che ricevere un messaggio con un'immagine di una cosa dall'altro mondo è una cosa che aiuta tantissimo a sapere che non si è soli tutto questo è molto importante e non è vero che non si può fare qualcosa si può fare qualcosa di molto concreto l'ultima cosa che aggiungo e alle cose che diceva anche a Giulia oggi non solo sono 1200 appunto come è stato detto prima i prigionieri politici noti ok, i prigionieri noti ci sono tutti quelli di cui non si sa e appunto Pavel è solo uno è un esempio ma immaginatevi che questi gesti contro la guerra sono stati fatti anche appunto non a Mosche e a Pietroburgo soltanto che sono sotto i diflettori in qualche modo del mondo ma nei paesini più piccoli o più grandi della Siberia del nord, del sud, del centro sono persone di cui non si sa c'è questo signore che è un insegnante un giovanissimo anche lui che ha semplicemente come si dice un professore di disegno che ha semplicemente fatto i baffi e le corna su delle fotografie in un giornaletto di periferia di quartiere cioè è proprio una cosa irrilevante ha fatto così mentre stava lì che prendeva ascoltava una lezione o faceva non so qualche cosa ha fatto questo scarabocchiato beh questi scarabocchi gli sono costati la condanna e in carcere ecco queste persone ce le possiamo assumere anche noi cioè non si può pensare che non sono come i nostri amici e simili che vorrebbero la fine di questa guerra quindi si può fare e si può fare molto queste persone vivono oggi grazie a una rete di solidarietà fortissima ed è quella la società civile quella coscienza civile che in Russia esiste e che c'è e che è fortissima raccolgono fondi si sono creati degli account telegram quasi su ogni prigioniero cioè su quelli che sono noti c'è un account che riporta il suo cognome e il nome e dice gruppo di appoggio per quella persona e le persone si possono mettere in contatto raccolgono fondi per aiutare ad esempio a pagare il biglietto ma banalmente immaginatevi il carcere che sta a 4.000 km dalla città di origine dove si trovano i suoi familiari per poterlo andare a visitare io mi ricordo anche per i genitori di Yashin vi ricordate per andare a trovarlo fra l'altro lì hanno fatto di tutto cioè i genitori anziani che hanno fatto un viaggio di migliaia di chilometri per arrivare al posto dove era tenuto in cella e quando sono arrivati gli hanno detto purtroppo che insomma non era possibile era stato spostato e quindi anche a Arlof la stessa cosa la moglie aveva fatto il viaggio per andarlo a trovare 2.000 km da Mosca insomma sono spese spesso sono famiglie che appunto non ce la fanno o le spese legali banalmente cioè tu per poter garantire che l'avvocato abbia la possibilità di andare a trovare il detenuto tu devi sostenere dei viaggi che costano tantissimo e quindi veramente oggi i russi detenuti o perseguitati si sopravvivano grazie alla solidarietà dei russi che peraltro appunto non a caso perché oggi tante persone c'è qui Vladimir un mio amico che ogni volta mi dice ma come posso aiutare come a chi posso mandare dei soldi dico guarda allora non lo puoi fare perché ci sono le sanzioni le sanzioni non consentono di mandare attraverso un conto bancario o la carta di credito lo puoi fare attraverso una catena che appunto consente di mandare comprese le email se uno vuole scrivere alla prigione si può scrivere anche via per via via mail e tu non lo puoi fare direttamente quindi lo fai attraverso c'è una rete che funziona attraverso l'Uzbekistan altri paesi che attraverso i quali tu puoi fare un versamento perché poi se scrivi al detenuto e vuoi che magari quel detenuto abbia la possibilità di scriverti puoi pagare tu un euro perché lui possa avere la mail pagata per risponderti quindi in realtà ci sono delle forme di solidarietà che sono fondamentali e del resto senza fare grandi paragoni storici però non è che quando c'è stata la dittatura in Italia diciamo c'era tutta questa grande società civile attiva visibile no c'erano tante persone perseguitate persone al confino persone uccise Matteotti adesso è la persona ovviamente che conosciamo di più però tanti sono stati uccisi tanti sono stati perseguitati tanti hanno dovuto vivere in clandestinità e però poi questo paese è stato ricostruito da queste persone e da chi è stato sollecitato da loro quindi noi dobbiamo dare fiducia e supportare chi in Russia pensa alla Russia del futuro e vuole e potrà costruire la Russia del futuro grazie grazie Raffaella velocissimamente diciamo un'ultima battuta per Giulia e per Andrea ecco Giulia queste cose mi rincuorano mi fanno scoprire anche la possibilità appunto come giornalisti come cittadini italiani di poter intervenire e dare una mano per diciamo alleviare anche queste sofferenze che a volte sono sconosciute sconosciute più ecco Raffaella secondo me è importante quindi un'opera da parte di Memorial di tirare fuori storie reali cioè fatti situazioni che testimoniano e poi certificano quella che poi è la quotidianità perché secondo me il punto su cui gioca il potere attuale insomma il regime attuale è quello di sostituire diciamo il giudizio critico con l'emotività ecco perché si riscopre la Russia imperiale perché sono tutti cattivi contro di noi perché si colpisce l'emotività che è molto più facile da raggiungere rispetto e la diciamo è questa emotività cioè io ti vendo quello che mi interessa e questo questa vendita poi ti soppianta diciamo il ragionamento che invece costa un po' più di fatica e un po' più di attenzione quindi bene è importante che diciamo ci siano sempre come dire più elementi e più effatti e più vita reale che possa sviluppare diciamo un giudizio più critico rispetto a quello emotivo che qualsiasi personaggio diciamo che ha un interesse ti può vendere riguardo a quest'ultimo punto non dimentichiamo anche la difficoltà per una persona che vive in Russia di accedere a informazioni che possono aiutarti a sviluppare un pensiero critico perché noi da qui le vedevamo le proteste a Mosca a San Pietroburgo ma anche a Samara o a Pirme o in tutte le città russe in cui soprattutto dal 2010 2011 veramente c'era un attivismo dal basso forte c'era un risveglio della società civile in Russia non si vedevano questa immagine il canale che fa vedere Jessica all'inizio che è il canale 1 insomma un canale di Stato uno dei tanti canali di Stato non mostrava Navalny che arringava la folla quando lo mostrava lo mostrava da solo dicendo che era un blogger da due soldi quindi la macchina della propaganda funzionava e funziona in maniera perfetta questo lo dice qualunque giornalista russo che capisce bene anche come funziona l'informazione e la selezione è stato uno dei grandi capisaldi dell'ideologia putiniana o meglio uno dei grandi strumenti per cui l'ideologia putiniana ha potuto attecchire così bene perché per noi ripeto è più facile noi dobbiamo magari selezionare le fonti ma le abbiamo tante in Russia non ci sono e quelle che ci sono come diceva anche Raffaella che dicono cose contrarie subiscono quello che Anna Politkoska e Anna Tasha Stimirova e tutti gli altri giornalisti che abbiamo nominato hanno subito quindi già questo è un elemento ulteriore per capire quanto è importante anche comprendere la situazione com'è perché da qui è anche facile dai nostri salotti sempre dire perché non scendono in strada perché non protestano perché non capiscono che Puzzini è cattivo lo puoi capire ma hai bisogno di tanti strumenti per farlo Andrea tu che hai seguito adesso il processo diciamo le ultime notizie su Dimitriev cioè continuate a seguire lui ha detto che 5 anni per lui era già una condanna a morte cioè come vive che cosa cioè come come si risolve questa situazione la situazione il caso di Dimitriev è un caso incredibile per tanti motivi ma uno degli aspetti che lo rendono veramente incredibile è il modo in cui lui ha affrontato questa terribile vicenda che lo ha coinvolto avete visto la lucidità in queste interviste avete visto l'enorme forza d'animo adesso sono passati beh lui è stato arrestato no lui è stato arrestato nel 2000 ah no il primo arresto nel 2018 quindi siamo già a 6 anni giusto e da 3 anni è in una colonia penale in Mordovia molto lontano da casa e avete visto nella selezione diciamo nella riduzione del documentario avete visto che c'è questo momento incredibile in cui Dimitriev accompagnato dai militari da una stanza all'altra del tribunale viene inseguito da Rasumov suo amico collaboratore e non si dicono come stai come va si dicono ah cambia quel titolo del libro cambia questo loro hanno lavorato così cioè Dimitriev durante tutto questo tempo ha sempre lavorato e ha pubblicato e quando è stato mandato in Mordovia ha cominciato a lavorare e sta tuttora lavorando ha una storia di quel campo dai tempi staliniani a oggi ed è una forza d'animo incredibile anche se purtroppo chiaramente stiamo parlando di una persona ormai avanti negli anni non è 8 gennaio ma ha 68 anni ha problemi di salute e ormai è quasi completamente sordo e questo è stato uno dei problemi al processo perché lui non sentiva era in videoconferenza e non gli davano la possibilità di ascoltare quello che veniva discusso del suo caso ha avuto una serie di pressioni molto potenti da parte delle guardie un esempio è stato messo più volte in isolamento una volta perché è andato a mangiare un gatto e poi si parlava prima dei pacchi lo diceva Giulia la difficoltà dei parenti i detenuti hanno diritto a due pacchi all'anno a un certo punto Dimitra si sono rotti gli occhiali e quindi non poteva più lavorare non poteva più leggere la legge dice che questo è un bene di prima necessità quindi non rientra nei pacchi invece lo hanno costretto quando ho tenuto gli occhiali nuovi a coltare quello come pacco quindi lui per quell'anno ha avuto un solo pacco da casa sono tutta una serie di vessazioni che sono state fatte Dimitra continua a essere lì noi chiaramente temiamo molto per lui però siamo in contatto con Katia la figlia che avete visto e Katia ci dice che comunque lui continua ad andare avanti si riescono a sentire anche se non si potranno vedere Katia ormai all'estero e dice che nonostante le condizioni difficili comunque lui continua ad avere un grosso atteggiamento ha abbracciato questa sfida e la sta portando avanti con grande dignità e questo credo che sia una cosa che vada rimarcata grazie il tempo è un po' tiranno per noi se c'è verissimamente qualcuno che il pubblico vuole intervenire ma se no insomma ci diamo appuntamento la prossima volta speriamo per notizie con notizie con notizie migliori insomma di di qualche altra persona messa in libertà ecco vi ringrazio e vi ringrazio anche a voi per forse lei vorrebbe dire qualcosa ah sì ecco vorrei ringraziarvi per aver organizzato questo evento e poi volevo dire che siccome è sorta la questione anche sì va bene devo questo è più lungo può essere grazie mille allora siccome è sorta anche la domanda che cose si può fare dall'estero per aiutare i detenuti politici per esempio una delle cose che è possibile fare per esempio c'è il progetto di Fyodor Khrushinnikov che è un politologo russo in esilio diciamo che ha lasciato la Russia credo nel 2020 se non mi sbaglio quindi ancora ben prima all'inizio della guerra su grande scala dell'invasione su grande scala lui ha fondato Rosstraf Straf in russo vuol dire multa quindi praticamente è un progetto che raccoglie i fondi per pagare le multe alle persone povere che hanno preso le multe per aver espresso il dissenso in Russia e hanno un Patreon quindi uno può per esempio scriversi sul Patreon pagamenti ricorrenti o fare forse anche una donazione unica quindi questo è un esempio di quello che uno può fare e questo non è un aiuto proprio ai detenuti politici che sono in prigione però comunque si tratta sempre di persone che hanno preso le multe quindi queste multe di solito sono l'inizio di un grande percorso verso la prigione perché non finisce lì perché di solito lo Stato russo procede per tappe quindi prima fanno una multa poi succede altro poi magari la stessa persona per lo stesso crimine tra virgolette viene condannata una seconda o una terza volta perché non è uno stato di diritto e comunque queste multe spesso sono veramente una condanna per queste persone perché magari sono dei pensionati disoccupati non so persone con disabilità qualunque cosa che vengono punite con multe spropositate rispetto al loro reddito e poi rischiano il pignoramento della casa e tutta una serie di grossi guai quindi per esempio questo progetto permette di pagare le multe a queste persone e ecco grazie poi noi daremo conto insomma anche grazie a Memoria magari abbiamo una lista di possibilità anche per invitare chi voglia magari scrivere e mandare una cartolina insomma a questi prigionieri politici vi ringrazio ringrazio tutti e insomma speriamo in buone notizie e che e che presto si trovi una soluzione perché questa guerra terribile trovi una soluzione una soluzione giusta per tutti grazie 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 mille